La filosofia, per conservare questo nome, così scioccamente screditato, richiede più studio, più pazienza e più ricerca, in una parola un'esigenza più seria di qualunque altra attività di sapere. È necessario alzarsi presto per questo. Bisogna vegliare con una vigilanza che sorveglia la notte e inoltre non si lascia affascinare dall'altra notte. Bisogna infine parlare pericolosamente e pericolosamente conservare il silenzio, proprio mentre lo si rompe.